Oggi Belen sarà al negozio di Cecilia e Ignazio e intanto mentre ce lo dice dietro c'è Luna che protesta. Allora, 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 volevo dirvi che vi aspetto oggi alle 18 in via Borgo Nuovo nel negozio di Clive, esatto, sì, sono molto felice di arrivare così ci facciamo un po' di foto, ma soprattutto tante chiacchiere, perché è vero che le foto rimangono, ma le chiacchiere credo fortemente che siano ancora più belle. Quindi vi saluto Luna, vi saluto mio papà, non lo so per quale motivo esce questo verde secondo me per Clive, perché Clive è verde, quindi io vedo del verde sulle mani di mia figlia, tipo sì, c'è del verde. Ok, quindi vi aspetto in tantissimi, ci saranno anche, sto chiamando un'amica, che porterò, che sono già lì, ok, si è interrotto tutto quanto. Allora, vi ripeto, vi aspetto in via Borgo Nuovo, quindi numero 1 alle 18, sarò lì, sarò lì per stare un po' con voi. Luna non protesta, ma bensì si lamenta del fatto che Belen non le dà attenzione, che carina che è.